E' un video angosciante che dà i brividi, dice Frederic Elbert, giornalista del Paris Match, che ha visionato il filmato degli ultimi istanti a bordo dell'Airbus della German Wings prima dello schianto. E' un video che ho visto io e tanti altri qui al giornale. Lo abbiamo visto decine e decine di volte. Sia ben chiaro che questo video non rende possibile individuare nessuno. E' soltanto il video di un passeggero dell'aereo. E' però il suono d'essere terribile, la dimensione umana del panico, le urla della gente. Questo video è passato attraverso diversi intermediari, che avevano legami con le persone, i soccorritori che hanno lavorato sul terreno dell'incidente. Sin da quando l'ho visto la prima volta, io e gli altri della redazione abbiamo ritenuto che si trattasse di un video assolutamente autentico, corrispondente a quanto è successo. Io non ho questo video, ho solo avuto la possibilità di vederlo. Noi tutti in redazione l'abbiamo potuto vedere e abbiamo deciso di non renderlo pubblico. Quindi ogni richiesta attuale di avere questo video o qualsiasi altro video non ha nulla a che fare con me o con Paris Match, conclude Elbert. Grazie. Grazie.